Ecco, questo era l'assessore Pagana, ma c'era anche l'assessore San Martino, mi pare l'assessore dell'agricoltura, che ha chiaramente sottolineato come la bellezza di questi luoghi non può essere messa in discussione ed è giusto che certe aree vengano assolutamente protette e ci mancherebbe altro. E su questo non ci sono assolutamente dubbi. Poi, sul fatto che ci sia un catalogo, il sistema delle aree protette occupa circa il 20% del territorio regionale ed è composto, come dicevamo, 75%. Questa rete ha svolto un ruolo fondamentale nella protezione della biodiversità. Sentiamo l'assessore San Martino.